Grazie a tutti. Come l'UNISA, Dipartimento di Farmacia, Giardino della Minerva e Scuola Medica Serenitana. Anche perché stella polare dell'ultradecennale manifestazione è la biofilia e l'ambiente. Ad arricchire le tre giorni anche quattro laboratori aperti al pubblico. Fra questi quello di uncinetto curato da Artemani che ha realizzato una serie di lavori a tema. Nel laboratorio di Artemani chi vorrà si potrà cimentare nell'uncinetto imparandone i rudimenti. 22esima edizione della Mostra della Minerva. Salerno, Villa Comunale e nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2024.